Una proposta di legge, di iniziativa popolare per legalizzare la cannabis, la nuova sfida dei radicali italiani che vogliono raccogliere con una mobilitazione nazionale le firme necessarie. Ne ha parlato oggi a Trieste direttamente il segretario nazionale Riccardo Maggi, il servizio di Antonio Cagliazza. La ricetta proibizionista ha fallito. Il segretario nazionale dei radicali italiani Riccardo Maggi cita il procuratore nazionale antimafia Roberti, il quale ha anche calcolato quanti ufficiali di polizia giudiziaria e quanti giudici e cancellieri lavorano alla repressione del traffico illecito di marijuana. Maggi è a Trieste per lanciare la mobilitazione nazionale i Legalizziamo Days il 24 e 25 settembre in un centinaio di piazze italiane per sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione della cannabis. Occorrono 50.000 firme, 35.000 quelle già raccolte, 3.000 a Trieste e altre 400 a Gorizia. Il modello, dice Maggi, può essere quello del Portogallo, in cui la decriminalizzazione dell'uso degli stupefacenti ha ridotto la delinquenza e anche la quantità di tossicodipendenti. Ha consentito di liberare risorse non più utilizzate nella repressione, aumentando la capacità dello Stato di occuparsi delle tossicodipendenze. Anche in Italia i tempi sono maturi, c'è una consapevolezza nella società che però non si rispecchia nel Parlamento. Come funzionerebbe questa legge? Vuole regolamentare l'autocoltivazione domestica fino a 10 piante a persona e anche regolamentare il commercio. Quindi ci sarebbe il commercio in un mercato libero regolato in base alle leggi dello Stato. Quindi massima informazione, controllo sui prodotti e soprattutto non spenderemmo più un miliardo e mezzo di euro l'anno per repressione. La Direzione Nazionale Antimafia ha espresso un parere favorevole su questa legge.